Una bellissima quercia da sughero, una pianta che vengo a trovare quando sono a far funghi. La scienza si interroga da tantissimo tempo sul mistero del sughero, un materiale incorruttibile, eterno, non soggetto a marcire, per questo che veniva utilizzato anche nel remotissimo passato per tappare le bottiglie, e anche le anfore in alcuni casi, un materiale antibatterico che resiste appunto all'aggressione di batteri, quindi un ottimo abbinamento per quanto riguarda le sostanze alimentari. Una pianta su cui dicevo ci si interroga da anni perché non si riesce ancora a spiegarsi di come faccia a superare indenne i secoli, i millenni. Grazie.